Si riparte dalla targa di un'auto. Il killer di Mattarella dopo aver sparato fuggì salendo su una Fiat 127 dove l'aspettava un complice, anche lui rimasto senza nome. La pista neofascista a partire dal ritrovamento nel 1982 di spezzoni di targhe in un covo dell'estrema destra a Torino fu ipotizzata già nell'89 dal giudice Loris D'Ambrosio in un report finito adesso alla procura generale di Bologna che ha avvocato a sé l'inchiesta sulla strage della stazione del 2 agosto 1980. I familiari delle vittime ritengono ci siano elementi di prova che collegano come mandanti del delitto Mattarella e della strage di Bologna la P2 e spezzoni deviati dei servizi segreti. In questi ultimi mesi sono apparse sempre più visibili alcune tracce che i magistrati del procuratore capo Francesco Loboi stanno seguendo con attenzione collegando informazioni che erano state sottovalutate oppure scartate. Una riguarda proprio quella targa o meglio gli spezzoni di una targa ritrovati il 26 ottobre dell'82, due anni e dieci mesi dopo l'omicidio di Mattarella nel covo nero di Torino. In un appartamento di via Monte a Solone i carabinieri trovarono due targhe tagliate. Un primo spezzone aveva la sigla PA come Palermo e il secondo PA 56 3091. Sono gli stessi numeri ma composti diversamente rimasti agli assassini di Persanti Mattarella che avevano utilizzato due targhe rubate per camuffare la 127 utilizzata nel delitto. Il giorno prima dell'omicidio i killer avevano prelevato la Fiat targata PA 536623 e sempre quel giorno il 5 gennaio 1980 avevano asportato da una Fiat 124 una targa PA 540916. Poi avevano costruito una nuova targa con i numeri delle altre due rimasta attaccata alla 127 abbandonata dopo il delitto. Dunque l'ipotesi che ad uccidere il presidente della regione siciliana siano stati esponenti dei gruppi neofascisti conosce adesso nuovi elementi e un nuovo impulso per le indagini.